Tre giorni di incontri, dibattiti, laboratori, spettacoli, dove il tema della disabilità è al centro, ma visto sempre non più come un problema, ma come le capacità diverse di ognuno di noi. Siamo partiti dalle scuole, come l'anno scorso saremo in diverse scuole di Napoli, con alcuni influencer che raccontano sui social la loro disabilità e poi affronteremo dei temi nei dibattiti pomeridiani, come per esempio la maternità nella vita disabile, oppure la sessualità, oppure altri tipi di disabilità che molto spesso facciamo fatica ad accogliere, come quelle della malattia mentale, della schizofrenia. Insomma, è un modo per cambiare la visione della disabilità, prima dal punto di vista culturale e poi da quello del welfare. Ci sono ragazze e ragazze stupende che spesso non sono entrate ancora in contatto con la nostra società. Quindi le condizioni che insieme all'assessorato di Trapanese stiamo cercando di creare come Comune di Napoli sono quelle proprio di abbattere le barriere di qualsiasi forma, di carattere fisico, di carattere mentale, per consentire ai ragazzi e alle ragazze e agli uomini e alle donne che hanno questa diversa capacità di poter entrare in contatto con una civiltà che deve essere più attenta a questa grande ricchezza. La seconda volta che noi collaboriamo, avendo creato l'identità visiva della manifestazione, le nostre allievi di design della comunicazione, coordinate dalla professoressa Enrica Daguanno e da Esther Vollono, hanno appunto guidato le allieve nel creare l'immagine del Festival. Accendere i riflettori sulla disabilità con un linguaggio moderno, affrontando temi importanti che spesso vengono evitati. Il Capability Festival dal 25 al 27 ottobre all'Albergo dei Poveri e in altri luoghi della città vuole rovesciare il punto di vista tradizionale, valorizzando le capacità con tre giorni di iniziative che coinvolgono anche esperti del settore e influencer. Per me è un grande onore perché finalmente riportiamo tematiche importanti che sono la disabilità, la diversa bellezza, soprattutto nelle scuole. È importante che i giovani imparino a conoscere diverse storie di vita importanti come la mia. Sono un sordo, ho una malattia degenerativa visiva, ma nonostante questo vado avanti. E quindi poter dimostrare che anche noi abbiamo forza, abbiamo coraggio e ci vogliamo mettere in gioco in questa società che è bellissima. E quindi vi aspettiamo tutti, in tanti, perché è una bella iniziativa.